Gabriel Garco torna in tv dopo il successo al Festival di Sanremo. L'attore è protagonista della nuova fiction di Canale 5, Non è stato mio figlio, in onda per otto puntate a partire da martedì 15 marzo in prima serata, con un doppio appuntamento previsto per il 15 e il 16 marzo. Accanto a Garco, Stefania Sandrelli e Adua Delvesco, la giovane fidanzata dell'attore conosciuta proprio sul set della serie. Gabriel Garco e Andrea Giraldi, un giovane imprenditore che, morto suo padre, si ritrova a capo del pastificio di famiglia, guidato insieme alla mamma Anna Stefania Sandrelli. Per seguire l'attività e occuparsi dei due fratelli più piccoli, Magda Aurore Ergui e Roberto Massimiliano Morra Andrea ha rinunciato alla sua giovinezza. Tutto si complica quando Barbara Benedetta Gargari, la figlia di Magda, si toglie la vita la sera del compleanno della nonna. Su Andrea si addensano i dubbi e solo la madre lo difenderà incondizionatamente con tutte le sue forze.